Buongiorno, in molti mi state chiedendo come verificare le nuove date per i pagamenti sulla piattaforma IMPES fascicolo previdenziale del cittadino. Andiamo in ordine, piano piano, passo passo vi spiego come bisogna fare. In più, nella mia pagina iniziale c'è una playlist dedicata proprio come verificare le date sul fascicolo previdenziale del cittadino. La prima cosa che bisogna fare è accedere alla piattaforma IMPES tramite SPID, carta d'identità elettronica o CNS, carta nazionale dei servizi. Una volta che avete fatto l'accesso, in alto c'è una lente di ingrandimento dove descrivere fascicolo previdenziale del cittadino e fare invio. Vi si apre la pagina sotto dove c'è scritto appunto fascicolo previdenziale del cittadino e voi cliccate su Utilizza lo strumento. Si riapre un'altra pagina del fascicolo previdenziale del cittadino e lì cliccate su Approfondisci. Una volta fatto ciò, sulla sinistra dello schermo si apre un menu a tendina. Cliccate su Prestazioni, di conseguenza pagamenti e al centro della pagina vi compare tutto quello che c'è da sapere che è di vostro interesse, ma soprattutto troverete se ci sono le date per i pagamenti che state aspettando.